Una chiesa umile, data anche la crisi di fiducia che patisce dopo tanti scandali di abusi. Una chiesa aperta che abbraccia tutti e valorizza senza averne paura la varietà di cui è portatrice. È la chiesa che sogna Francesco in vista dei prossimi sinodi convocati a Roma per l'ottobre prossimo e quello del 2024. Per adesso ecco una sorta di ordine del giorno dei lavori. 50 pagine dense di domande anzitutto raccolte con l'ampia consultazione avviata due anni fa del popolo di Dio. E questo è un processo. C'è prima il sinodo un evento di tre settimane ma questa volta è un processo su quattro anni. Il sinodo e la premessa non è un Parlamento con maggioranze e opposizioni ma il tema autorità nella chiesa e come esercitarla si annuncia piuttosto vivo. E così anche l'accoglienza di chi è accolto invece non si sente ancora. Divorziati risposati LGBT, chi patisce discriminazioni su base razziale o di classe o di casta. E ancora come dare spazio alle donne negli organi decisionali, disciplina del celibato sacerdotale, oltre all'aggressiva secolarizzazione di oggi che per qualcuno è persino un'opportunità. A patto di essere chiesa in dialogo sì col mondo, non mondana però.